Buonasera a tutti, benvenuti all'Arena Santa Giuliana, sempre molto emozionante iniziare i concerti col sole che scende, vedervi. Benvenuti qui, benvenuti a questa seconda serata di Umbria Jazz 2012. Signore e signori, comincia la nostra serata con il trio di Stan Tracy Umbria Jazz, grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!